Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non si esauriscono. La tua gente riedificherà le antiche rovine, ricostruirà le fondamenta di epoca lontane e ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case in rovina per abitare. Ecco, meditiamo su questa parola. La preghiera è quella che ci dà il Signore, non quella che facciamo noi. La nostra è una risposta alla parola di Dio. Ecco, quando Dio parla, noi assaporiamo la Sua parola e poi rispondiamo con lode, tutti, uno per uno, alla parola del Signore. In modo che la parola di Dio fiorisca in tutte le bocche e siamo tutti a rispondere al Signore. Signore, io ti ringrazio per tutto quello che tu ci dici. Noi non crediamo alle nostre orecchie e ai nostri occhi, ma crediamo a tutto quello che tu hai detto. Tu hai annunziato tempi migliori per rincuorarci e noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché se noi siamo infedeli, tu sempre sei buono. Glorie, glorie a te, oh Signore. Adesso abituiamoci tutti a dire il nostro grazie al Signore. Sii fedele, Signore, alla tua alleanza. Non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. Sorgi, Signore, riprendi la tua causa. Non dimenticare le suppliche di coloro che sperano in te. Signore, con questa invocazione alla fedeltà di Dio, noi iniziamo quest'anno il ventennale del nostro cammino. Sii fedele, oh Dio, alla tua alleanza. Signore, non c'è bisogno che noi ti chiediamo di essere fedeli a te. Sei piuttosto tu che ci chiedi di essere fedeli alla tua alleanza. E noi questa sera vogliamo rinnovare l'alleanza con te. Di quanti abbiamo incominciato questo cammino, siamo pochissimi. Possiamo contarle sulle dite della mano. altri tu rei chiamati, altri si sono perduti per strada. Noi siamo il resto di Israele. Ma tuo, Signore, hai accresciuto questo nucleo. Hai fatto germogliare nella pietra i tuoi figli. hai creato canti di gioia con le pietre che hai trasformato in cantori. E ti ringraziamo e ti ve ne diciamo perché tu non vieni mai meno. Noi abbiamo bisogno di te, ma tu non hai bisogno degli uomini perché tu sei il creatore degli uomini. Signore, ti chiediamo di venire sempre ai tuoi atri, di moltiplicare le nostre offerte a te, di sederci accanto a te come Padre e di benedirti nei giorni del nostro pellegrinaggio. Ti chiediamo, Signore, di mandare i tuoi angeli a suonare le trombe a raccolta perché vengono di nuovo qua coloro che tu un tempo hai chiamato. E intanto noi gridiamo a te il mia colpa per le nostre colpe che abbiamo commesse davanti a te e chiediamo che tu ancora una volta voglia risvegliarci dal nostro tortore. Dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in prele ad una grande febbre e lo pregarono per lei. Chi nato su di lei intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levateci all'istante la donna cominciò a servirle. Al calar del sole tutti quelli che avevano infermi colpiti dai mali di ogni genere li condussero a lui ed egli imponendo su ciascuna le mani li guariva. da molti uscivano demoni gridando tu sei figlio di Dio ma egli riminacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era il Cristo. Sul farda giorno uscì e si raccò in un luogo deserto ma le folle lo cercavano lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro egli però disse bisogna che annunci il regno di Dio anche alle altre città per questo sono stato mandato e andava predicando nelle sinagoge nella Giudea. parola del Signore fratelli e sorelle innanzitutto vi abbraccio uno per uno siate benedetti dal Signore siate baciati dal Signore abbracciati dal Signore io qui dall'altare nel nome del Signore vi abbraccio uno per uno e dico siate benedetti nel nome del Signore voi che varcate questa soglia siate benedetti nel nome del Signore una parola sul Vangelo è uno spaccato di una giornata di Gesù quando incominciò proprio dopo l'inaugurazione della sua missione a Nazareth incominciò a predicare innanzitutto va dalla suocere di Pietro dopo aver predicato nella sinagoga la suocere di Pietro è ammalata di una febbre grave alta Pietro aveva parlato a lei di sua suocera e Gesù si è benignato di entrare nella casa della suocere di Pietro e quando la vita ha letto si cridò la febbre febbre che stai facendo ancora qua vattene via e la febbre come qualsiasi creatura di Dio operisce al comando del suo creatore e se ne va poi esce e tanta gente si accalca attorno a lui la gente porta paralitici ciechi sordi muti perché sapevano che guariva Gesù imponeva loro le mani e quelle che venivano toccati da Gesù guarivano è un gesto sacramentale che compie Gesù il tocco delle sue mani trasmette la sua potenza di guarigione ma tra gli ammalati c'erano molti indemoniati quelle che meraviglia e quelle che dice il Vangelo molti di quelle che erano attorno a Gesù erano indemoniati perché dice appunto il Vangelo che da molti uscivano demoni gridando tu sei il figlio di Dio avvertivano la presenza di Gesù noi non avvertiamo come la gente comune non avvertiva che quell'uomo era il figlio di Dio ma i diavoli no i diavoli credono e tremano non è una fede che salva è una fede o meglio è una visione che li scuota si accorgono che è Gesù e gridano sei venuto a rovinarci tu sei il santo tu sei il figlio di Dio e gridando uscivano da molte può anche darsi che molte sono quelle che sono disturbate dal maligno a diverso livello senza che noi ce ne accorgiamo fatto sta che tra tutti quelli che stavano attorno a Gesù molti erano indemoniati e non era gente peggiore di noi era gente comune erano ebrei frequentavano la sinagoga osservavano le prescrizioni della legge non erano forse santi e gente comune ma molti erano indemoniati e quando Gesù si accostava o guarivano gli infermi o gli oppresi i vessati venivano liberati come erano molte le malattie così erano molti quelli vessati dal maligno sono delle osservazioni che c'è ci debbano far riflettere perché la presenza del maligno ci può sfuggire ci può essere noi a livello di tentazione a livello di seduzione a livello di cattiva malattia così di cattiva salute a livello di tristezza di noia a livello di rabbia di odio questo è noi ma al poco o alla vista di Gesù i demoni scappano e poi Gesù quando finisce di predicare di guarire e di liberare se ne va a pregare concluda la giornata con la preghiera al padre ma la gente vuole ascoltarlo vuole che resti ma Gesù dice no io devo andare a predicare per cui lasciala i villaggi lasci i paesi ci sta un giorno prega la sera riposa e di domani parte e una evangelizzazione itinerante questa è la vita di Gesù per tre anni che san Pietro sintetizza nella casa di Cornelio con queste parole egli passò per tre anni incominciando dal battesimo di Giovanni fino alla sua passione predicando facendo del bene e risanando tutti quelli che erano sotto il potere del maligno questo in realtà non dobbiamo dimenticarla soprattutto oggi che è l'epoca come dice la Madonna in cui il maligno ha le briglie sciolte ed ha il dominio sulla terra chiediamo al Signore Gesù che ancora passi in mezzo a noi guarisca ciascuno di noi sia malato come ha guarito la suocere di Pietro si libera dalle altre malattie dalla nostra cecità dalla nostra sordità dalle nostre paralisi dei nostri torpori e ci libera anche dal maligno che a diversi livelli e con diversa intensità impedisce la nostra vita cristiana chiediamo al Signore Gesù che passi continuamente in mezzo a noi e tratteniamolo quando egli giunge qui in mezzo a noi tratteniamolo perché la sua presenza in mezzo a noi è presenza che salva che libera che guarisce che consola Amen